Ah 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 ah! Mi prenderò piccoli miserabili pelle blu! Eeeeeeeh... Piano con le parole. Capisco che sei arrabbiato, ma piano con le parole. Questa volta non mi sfuggirete, maledetti puffi! I puffi deve la mettere i snufs in un'attrovazione. Aiuto! Mi ha preso! Aiuto! Lasciami, Gargabella! Lasciami! Stai zitto! Non sopporto che si parli mentre mangio. Deve essere così, puffetta, altrimenti non funziona. Evviva! È il minimo che posso fare per te. Dobbiamo cercare di raggiungerlo. Una mucca è stata travolta e uccisa. Ma che sei bravo! Ma come pattina bene! Clamoroso! Il morto non è morto! Anzi, il morto che è morto, non è morto! È il minimo che posso fare. Ciao! Grazie a tutti.